Con i suoi 250 figuranti è il presepe vivente di Monterchi, quello più suggestivo della provincia retina e probabilmente della Toscana. L'appuntamento si rinnova il 25 e 26 dicembre, il 1 e 6 di gennaio, dalle 17 e 15 alle 19 e 15. In Val di Chiana la tradizione del presepe vivente si rinnova invece a Pietraia, soli 9 chilometri da Cortona. Ad organizzarlo è la proloco di Pietraia nel boschetto dietro la chiesa di San Leopoldo ed è visitabile durante i giorni festivi del periodo natalizio fino al 6 di gennaio. Altro appuntamento in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino il 26 di dicembre, appuntamento inserito in un fitto calendario che quest'anno si intitola Luce su Castiglion Fiorentino e che prevede tantissime iniziative tra cui suggestive proiezioni su Palazzo San Michele. Ed infine ci spostiamo nel Val d'Arno, ovvero al presepe vivente ponticinese. Qui l'appuntamento si rinnova lunedì 26 dicembre, venerdì 6 gennaio. Alle 15 e 30 è prevista anche l'apertura del mercato del vecchio ponte.